Sono ormai 32 anni che le amministrazioni comunali di Capolone e di Subbiano organizzano il pranzo degli anziani, dedicato a coloro che hanno superato ormai i 60 anni di età. Volete colei che... beh, insomma, visto cambiare molto Capolone, Subbiano, è la Cecchina. Cecchina, dimmi una cosa, quanti anni hai? 86 finiti. Ma io lo vedo che sei veramente in 87. Le hai pressi bene però, mi sembra. Tutti bene. Le hai pressi in bicicletta che vai sempre... La bicicletta, di qua, di là, così le ho pressi. Eh, ma bisogna pigliarla così la vita, se no, addio. Eh, è visto allora, bisogna essere allegri. Te sorridi sempre, è vero o no? Sì, è il mio babbo, è il mio babbo. Sì. Rideva sempre. Anche se a dispiacere rideva. La mia mamma era un po' più... ma il mio babbo era la ridazione così. Senti una cosa, ma per arrivare con questo spirito che tu hai, te tutto il giorno io ti vedo che parti, dove vai? Eh, non mi capita di andare. Agli amici, vai a trovare gli amici? No, poco, tanto da fare in quell'orto. Perché c'hai un bell'orto, è vero o no che c'hai un bell'orto? Sì, ma a me che fa? Mi scrive la E? Sì, mi scrive. Ascolta bene, dimmi quest'orto com'è, che ci hai messo quest'inverno? Io ci ho messo... L'agretti, l'agli, le papi, e allora vuoi più? Ancora, no, perché io proprio ci pare da piovere. Senti una cosa, ma mangiare è vero che per avere una bella vita lunga e sana bisogna mangiare poco? Ah, ma io mangio, eh. Mangi parecchio? Mangio, mangio bene, insomma, le mie ore, quando è la mia ora, ma io quando ho da tavola non mangiare. La verdura ne mangi tanta? Poca. Poca. La frutta? Poca. La pasta asciutta? Tanta. Quindi allora sfatiamo il fatto che la pasta asciutta fa male. Guardate qua, che fisico che ha la nostra cecchina. Però so, è molto dimagrita e non so il perché. Perché consumi cecchina? Ma per forza... Ma è vero che vanghi anche? Ma è vero che vanghi o no? Che chiamo il trattore. Eh, ma è vero che zappi? E come no? Quindi capite, questa è la cecchina. Oh, allora i contadini dovrebbero essere tutti fini? Eh, no, no, è qualità. La mia magra. Esatto, è una magra. Ma a me mi importa. Però a me rincresce, perché siamo più brutte quando siamo magri. Stai benissimo, una bellissima signora, la nostra cecchina. Guardate cosa significa naturalmente stare insieme e vivere bene. Grazie cecchina. Buona sbiciclettata, eh? Ciao, bella. Insieme agli anziani di Capolona, insieme agli anziani di Subbiano, cosa vuole essere? Ma è una sorta anche di ringraziamento verso chi ha fatto crescere le comunità di Capolona e anche di Subbiano. Cioè, penso che loro sono la nostra memoria storica, quindi è una tradizione che noi abbiamo trovato e abbiamo cercato di continuare e magari anche ulteriormente valorizzare, proprio perché credo che la storia di un territorio si faccia anche dalle esperienze personali, come i tanti partecipanti a questo pranzo. Dopo 60 anni Enrico Donati è giovane, dobbiamo dire così, dopo 60 anni si ritrovano loro e vedo che ogni anno non rinunciano a questo appuntamento. Sì, ricordiamo anche che c'è una presenza significativa delle persone che sono momentaneamente o comunque 24 ore su 24 ricoverate all'RSA Boschi, per cui è anche un motivo di confronto tra dei genti e magari coetanei che stanno un po' meglio ma che comunque scambiano le idee tra loro e si confrontano anche su quelle che sono anche le problematiche della terza età. Senti Don Paolo, che significa questo pranzo per tutte queste persone anziane? Io ringrazierei veramente poi il comune qui di Capolone e Subbiano, proprio perché è un'iniziativa molto bella, a volte ci si preoccupa molto anche noi sacerdoti e altre cose, dei giovani, invece c'è anche altre realtà e è un modo di stare assieme all'Epifania oggi che è la manifestazione di Gesù bambino. Il Vangelo dice se non ritornerete bambini non entrerete al Regno dei Cieli, a questa edà adulta e oggi significa lo stare assieme, condividere con persone anche anziane che soffrono, magari a volte sono anche soli, hanno la possibilità di stare assieme ed è anche un modo di conoscenza ed è una manifestazione di gioia, un bel segno per le nostre comunità parrocchiali ma soprattutto per i comuni di Capolone e gli faccio tantissimi auguri che l'Epifania sia proprio questo itinerario di cammino di fene per ognuno di noi, al di là del credo di ognuno. Antonella Luzzi, abbiamo parlato di RSA, abbiamo parlato dei nostri anziani che oggi sono qui insieme a tante altre persone comunque che sono della comunità, è un'esperienza anche sicuramente sia per coloro che invece sono qui e abitano nelle proprie case, è un'esperienza invece per coloro che risiedono presso di voi e quindi anche un confronto, un sentirsi uniti. È solo tanti anni ormai che curiamo questo aspetto, effettivamente ai nostri anziani gli serve per sentirsi ancora parte della comunità, per frequentare i loro coetanei che sono un pochino più fortunati a livello di salute, però allo stesso tempo molti anziani hanno un po' lo spettro della malattia e anche vedere che si può affrontare con certo cura ma anche gioia, leggerezza, comunque continuare una qualità della vita accettabile, penso che faccia piacere anche agli anziani del territorio, trovarci ogni anno. Qui trovo il maresciallo Fabio Rizzo con Don Giuliano Francioli. Tutte belle, truccate, tutte belle, guarda le pelle là. Perché è l'occasione, no? Credo. E' importante. Ma se vuoi cominciare un pochino anche voi, media, a far passare un pochino di speranza, di fiducia e di sorrisi? Oh, allora andiamo a fare questi con bambini, con tutti, con la società, per ridargli un dono, oggi che c'è i magi, o no? Il dono della gioia, della fiducia, stare insieme è la prima cosa, ritrovare un po' le relazioni, eh, star meno a dir mal di quell'altri, un bel sorriso, un incoraggiamento, una mano stretta. Fabio, tu vivi comunque questi due territori e quindi ti accorgi proprio queste persone anziane, forse come hanno proprio bisogno, come dice Don Giuliano. Forse qui però è anche l'occasione proprio dell'incontro, no? Si incontrano e domani riparlano anche fra di sé, no? No, ma è un incontro annuale che mi piace parecchio partecipare perché ha 13 anni che partecipo proprio alla festa della Befana. E' una cosa che è parecchio sentita perché poi anche questi anziani vogliono essere anche considerati, quindi c'è il discorso del dialogo e è molto bello, guarda, è molto bello per me. E siamo vicini alla nostra gente, alla gente del nostro territorio, la gente che però è anche ospite della Residenza Protetta di Subbiana, ma quanti ce ne avete? Abbiamo 40 anziani residenti e 6 anziani che fanno il diurno, vengono la mattina e tornano a dormire la sera a casa. Io vorrei farvi capire l'importanza anche di questo servizio. Antonella, tu hai visto nascere la Residenza Protetta. Io penso che sia fondamentale per tantissime famiglie, purtroppo non riusciamo a dare una risposta ampia visto, come dire, alle necessità che veramente ci sono. Anche il diurno è una struttura, diciamo, che consente agli anziani di stare al proprio domicilio. Chi ha qualcuno a casa la sera può stare con noi di giorno, è al sicuro, è protetto, i figli possono lavorare, dedicarsi alle varie attività tranquillamente e poi l'anziano riesce a mantenere il proprio ambiente di vita e questo penso che sia fondamentale. E per tanti anni vedo che ce la fanno e quando peggiorano le situazioni di salute, poi magari un eventuale inserimento in struttura è molto più facile, molto più indolore. Senti, da qualche anno si vedono anche dei messaggi molto belli. Le feste della Residenza Protetta, l'abbiamo vista in primavera, l'abbiamo rivista adesso nel periodo proprio di fine anno e del Natale. Cioè significa la voglia di fare entrare anche il paese dentro, non soltanto voi, perché qualcuno di questi anziani, meno anziani, che non fanno parte della Residenza Protetta, dicono ma noi ci portate a spasso, cioè nel senso che voi questi anziani comunque li fate entrare nel nostro territorio di Subbiano e Capolona o di Capolona e Subbiano sempre, continuamente. Sì, cerchiamo veramente di vivere il paese, il paese ce lo consente, tanta gente ci avvicina insomma, c'è anche un bel volontariato che ci agevola le uscite in paese, sia che fa parte dell'hauser che fa parte della parrocchia e puntualmente, devo dire, negli ultimi anni partecipano tutte le iniziative che organizziamo. E l'RSA è un luogo aperto, le porte sono aperte qua, insomma, tutto il giorno, tutto il giorno, quindi qualsiasi visitatore è ben accetto. Facciamo anche delle attività strutturate, come dire, invitiamo volentieri la popolazione. Per esempio il martedì facciamo un'attività di canto, arriva il maestro con la fisarmonica e gli anziani, i volontari cantano insieme. Il mercoledì spesso facciamo delle tombole, il lunedì usciamo un paese con i volontari al mercato, quindi insomma la settimana sempre si cerca di viverla, sempre a contatto con l'ambiente esterno e con l'esterno che viene da noi. E questo è bello perché oggi naturalmente non si sentono dei pesci fuor d'acqua, oserei dire così, ma si sentono con quelle persone che magari incontrano anche quando vanno al mercato. Certo, perché comunque sono abituati ad uscire, escono volentieri al mercato, ai giardini, quando il tempo lo consente, è poco il tempo che passano dentro di giorno. Siamo, come ripeto, al mercato, ai giardini, gelato e partecipiamo volentieri. Loro sono entusiasti e noi anche. Nevio, tanto tempo fa tu non potevi venire perché eri un ragazzo giovane, no? Adesso invece puoi arrivare qui a questa festa. Senti, questo tipo di passaggio, come si vive quando si è tutti insieme? Ma l'ultimo è un bel passaggio, è un bel passaggio e si comincia ad essere con quelli della nostra età. Ci si ritrova, queste le occasioni sono per ritrovarsi insieme dopo qualche volta anni, non ci si ritrova. Io qualche volta dico che le persone anziane per un'amministrazione comunale sono una bella risorsa e questo lo dico per un motivo, perché avete tempo per guardarvi anche intorno e avete tempo anche naturalmente per osservare meglio le cose, capire forse anche le esigenze perché avete l'occasione di parlare, perché c'è questo tempo. Ecco, sbaglio? Sarebbe giusto, però forse non riusciamo poi ad avere a chi riportare queste cose che noi vediamo. Non si riesce ad avere con chi interloquire. Potrebbe essere una richiesta? Potrebbe essere una richiesta. Io sono convinto che venisse richiesto, avrebbero, all'amministrazione forse avrebbero una risposta che gli potrebbe servire veramente, proprio indipendentemente da tutto, gli potrebbe servire. L'anziano non è che chiederebbe le nostre cose, ma chiederebbe delle piccolezze che sono necessarie per vivere bene loro e forse altri, anche i bambini. Antonello, tra i tanti anziani chi avete? Questo signore per esempio chi? Questo signore è Emilio Gatteschi, oltre che il... che lavoro faceva? Il mezzadro? Il mezzadro e poi l'operaio. E poi l'operaio, però anche suonava la fisarmonica e andava nelle case, come dire, con i suoi amici suonatori per le veglie. E adesso so che avete l'attività di canto, di fisarmonica. Le piace quando viene alla residenza protetta la fisarmonica? Io. Eh, piace. Ti piace quando viene Pierluigi con la fisarmonica? Sì, sì. Ah, già. Abbiamo ripiegato sull'armonica. Sì, vado bene anche quella, insomma, un campione, non so, eh. Sì, una giornata importante perché qui si ritrovano tante persone, terza, quarta età. Il Subbiana e Capolona ha un modo per stare insieme, semplice, per poter parlare insieme, per poter passare un po' di ore in allegria. In allegria, nel segno della Befana, ogni tanto, anche noi, insomma, la nostra festa è giusto celebrarla. Non so se te ne eri accorto, ma stavo qui ascoltando Bouchenet, che parlava di economia, che parlava di ambiente. Questi anziani mi sembra che ne sanno molte più di noi. Sono riuscito a campare con niente. Oggi c'è gente che ha un sacco di mezzi, che dicono che non vanno avanti. Non facciamo noi, ma, insomma, i nostri capoccioli. Guarda, ti è arrivato il pranzo, intanto io mi sposto da quest'altro lato. Ecco, quindi è gente che è campata con niente, come dicevi, quindi può... Sì, perché oggi si campa con i giochini, con tutte le storielline, con tutte... Questa è la gente che ha lavorato, ha sudato, ha seminato, ha piantato. E ora, insomma, mi pare che non è che c'è tanto ricambio, tanta voglia di portare avanti queste cose. Quindi io penso che sia anche un po' di riflessione importante, anche, penso, la proporla anche... Non soltanto a Tavoli, ma in qualche anche altro ambiente, forse che gli farebbe anche comune a tutti loro vedere un po' come lo sanno e fanno finta di sapere. Comunque, speriamo che a volte qualche lamentera di qualche anziano gli arrivi. Non lamentera, qualche riflessione. E c'è anche una riflessione, direi, in questo periodo. La famiglia che si ricompatta. Una volta gli anziani venivano messi in una casa da soli, poi ognuno si faceva la sua casetta per conto suo. In questo momento si sta anche ricompattando, forse per necessità, però forse serve anche per non essere soli, perché si vive meglio in comunità, giusto? Cioè, è un discorso che dipende sia dal bisogno che... Io vedo che a Cassino Fibocchi, molta gente, a casa, non al lavoro. Quindi, le due case aperte. Gli anziani fanno, anche diciamo così comune, perché hanno la pensione, hanno una sicurezza. Molti... hanno perso anche molti nipoti, si affidano più ai nonni che ai genitori qualche volta. Quindi i genitori sono diventati i nonni una risorsa preziosa, in tutti i modi, e quindi anche per tante piccole cose in casa e tante faccelle. Quindi penso che sia un valore che sia, ecco, anche penso un buon senso, sia anche che la necessità può favoriscono che sia ripresa. Speriamo che durino, soprattutto per il buon senso, per l'amore, non soltanto per i sogni, ecco, cioè, sarebbe un povero. Speriamo un povero. Speriamo un povero.